Filippo Lanza, archiviata la sconfitta con la Francia, un 3-0 importante, convincente, ora la Russia. Sì, adesso la Russia che verrà sicuramente agguerrita a giocare contro un'Italia che secondo me è ancora rosica la partita che ha fatto in Giappone. È una Russia che ha cambiato molto, la Russia è sempre stata forte, quindi bisogna saper riposare stasera e arrivare con la testa giusta in una partita che sarà lunga e difficile. Si è visto un'Italia solida, concentrata, quali certezze vi lascia questa partita e che cosa invece potete dare in più? La certezza è che dopo una sconfitta siamo capaci di rialzarci, di alzare la testa e di guardare in faccia il nostro prossimo avversario e gestire la partita nel miglior modo possibile. Un 3-0 ci serviva anche per le nostre energie che non sono molte quelle rimaste, adesso andiamo avanti a cuore e a testa, speriamo che sicuramente domani ci sarà da combattere. Dopo quella vittoria alla World Cup ci sarà area di vendetta domani da parte dei russi? Sicuramente loro verranno con la scorta, hanno cambiato anche un bel po' di giocatori, bisogna studiare bene il loro gioco, ci impegneremo stasera e domani a farlo. Penso che se l'abbiamo fatto una volta possiamo ripeterci. Grazie a tutti.